All'ordine del giorno dell'Assemblea del PD di ieri sera in Sala Zanoni, il parco fotovoltaico non c'era e non ci doveva essere. La decisione in proposito non è urgente, come ha ribadito stamattina il Presidente dell'Assemblea Luigi Lipara, mentre la grave questione della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Maggiore sì. Ed è l'ospedale, con tutta la sanità pubblica, la priorità scelta dal PD, il cavallo di battaglia con il quale si potrà battere la Lega, sull'esempio del successo elettorale di Stefano Bonaccini nelle regionali Emiliano-Romagnole. In funzione di sardine, ovvero di forte stimolo alla partecipazione popolare, ci sono le mamme del fiocco giallo, come Francesca Pontigia ed Elena Albera, la cui petizione online per la salvezza della terapia intensiva neonatale ha ottenuto 13.000 firme in 24 ore. Ieri sera il sindaco Gianluca Galimberti si è dichiarato in linea con i due colleghi, Michael Marchi e Roberto Mariani. Si incontreranno tutti e tre sabato per convocare tutti i sindaci della provincia a una mobilitazione per salvare l'ospedale dai continui tagli. A rischio c'è anche la medicina d'urgenza. Incombe infatti la definitiva delibera della giunta Fontana che fisserà le linee guida, in base alle quali organizzare internamente i reparti e a Cremona la terapia intensiva neonatale sarà declassata. Saranno curati solo i bambini sopra alle 26 settimane. I più piccoli saranno trasportati a Brescia. Francesca Pontigia ha notato che una famiglia economicamente fragile, non automunita, dovrà affidarsi a Trenord con il rischio di subire ritardi pericolosi. Del parco fotovoltaico il PD discuterà, ma a porte chiuse, solo nella direzione cittadina. Nel frattempo il contratto preliminale non è stato ancora firmato, pare per la trattativa in corso con la società, ma l'atto politico della Fondazione del Comune è già stato compiuto offrendo ad un privato la disponibilità di 15 ettari di fotovoltaico a terra. Forza Italia ha chiesto un consiglio comunale sull'argomento, prima però ce ne saranno due sul bilancio, quindi se ne parlerà a marzo. Intanto venerdì il sindaco in un incontro pubblico discuterà del piano per il verde pubblico. I critici parlano da tempo di politiche ambientali ridotte a giardinaggio.